Perché la necessità di questo referendum? Per l'eutanasia legale contro l'eutanasia clandestina, a parte la raccolta firme anche da Brindisi, si può firmare ai tavoli, ma anche in comune, nelle segreterie di tutti i comuni, finalmente essere liberi fino alla fine della nostra vita, poter decidere di non dover subire una sofferenza. La politica ufficiale non è riuscita a fare una legge, ora possiamo decidere come cittadini se avremo le firme per tenere il referendum. Cosa accade ora in Italia? Accade che nella fase terminale di una malattia spesso i malati devono subire una coniezione di sofferenza alla quale non avrebbero mai voluto essere sottoposti. Allora non tutti sceglierebbero l'eutanasia ovviamente, ma chi volesse sceglierlo deve essere libero di farlo perché non toglie nessun diritto agli altri. Ecco perché è importante rispettare la libertà di ciascuno. Noi lo vogliamo fare con un referendum che depenalizzerebbe un reato del 1930 che non è più attuale e non riesce più a rispondere alle reali esigenze delle persone.